La famiglia di Natale Justin Bieber e Selena Gomez separati a Natale, ecco il motivo Justin Bieber e Selena Gomez non trascorreranno insieme il Natale, il problema è la famiglia di lei. Justin Bieber e Selena Gomez stanno insieme, ma pare che non trascorreranno le vacanze di Natale insieme. A rivelarlo è una fonte alla rivista People, la quale ammette che la famiglia di Selena non sia pienamente d'accordo con il ritorno di fiamma dei due. Sarebbe proprio questo il motivo per cui Justin e la Gomez sarebbero costretti a separarsi durante il periodo natalizio. Nonostante ciò, ormai sappiamo che non c'è più alcun mistero sul loro ritorno di coppia. Infatti, Justin e Selena si mostrano insieme alla luce del sole, senza farsi alcun tipo di problema. La coppia è stata spesso fotografata a cena, al bar e in bici in giro per la città. La fonte di People ha rivelato che Justin e Selena stanno molto bene, tanto che sono molte le giornate che trascorrono insieme. La famiglia Gomez, però, non ha invitato il Bieber a nessun evento. Naturalmente, i genitori di Selena sarebbero attualmente un po' titubanti di fronte a questo ritorno. Sono tante le volte in cui i due si sono separati, provocandone la Gomez molto dolore. La famiglia di Selena Gomez non accetta il ritorno di fiamma di Justin Bieber. Il ritorno di coppia di Selena e Justin pare non sia pienamente apprezzato dalla famiglia Gomez. I due si sono lasciati e sono tornati insieme diverse volte. Sarebbe proprio questo il motivo per cui i genitori della pop star sarebbero resti ad accettare la relazione. In passato, Selena ha sofferto molto per le numerose separazioni avvenute con Justin. Persino in pubblico, la Gomez si è mostrata in lacrime. Al contrario, il loro ritorno pare sia ben apprezzato dalla madre di Justin. La donna ha raccontato di aver incontrato Selena, con cui ha un legame molto speciale. Pertanto, la mamma del Bieber ha rivelato che la Gomez è una persona preziosa per lei. La famiglia Bieber contenta del ritorno di Justin e Selena. La famiglia Bieber ha sempre amato Selena, ma i parenti di quest'ultima non riuscirebbero ad accettare questo ritorno di fiamma. La Gomez trascorrerà il Natale insieme alla sua famiglia, la quale non apprezzerebbe la presenza di Justin. Pertanto, i fan dovranno mettersi l'anima in pace, perché sembra certo ormai che Selena e Justin non trascorreranno le vacanze di Natale insieme. Ciao!" Ciao!" Ciao